Buongiorno a tutti. Continuiamo nel solco degli aggiornamenti sul tema della pandemia da coronavirus per aggiornare la cittadinanza sull'andamento della curva epidemiologica. A distanza di 20 giorni dal precedente comunicato registriamo ulteriori 44 nuovi casi di contagio fino al raggiungimento di un numero complessivo di 95 positività. È evidente che a fronte del contagio si sono verificate altrettante guarigioni che hanno seguito l'incidenza del contagio e delle positività di questo ultimo periodo con l'avvenuta guarigione di 71 persone. Pertanto attualmente il numero di positivi è pari a 24. Questo è indicativo di un miglioramento progressivo della situazione a cui dobbiamo sempre accompagnare atteggiamenti di massima attenzione, vigilanza e cautela per evitare la recrudescenza del virus. Grazie a tutti e buona giornata.